Qual è il bambino che vuole? Vuoi venire un attimino? Come ti chiami? Pavel. Pavel, ciao. Allora, adesso io e Pavel facciamo una cosa che ragazzi è una storia che è tristissima, capisco? Ti va di fare una storia tristica o facciamo una cosa allegra? Sì, venite. Allora, attenzione, noi vi racconteremo una storia. Voi sapete che nelle favole si parla sempre del principe. Chi è il principe? Quello che va a cavallo, che è bello, no? Però purtroppo questa è la storia del principe brutto e Pavel farà il principe brutto. Qual è il problema che già lo capite, no? Guardate Pavel, può fare il principe brutto Pavel? No, perché è troppo bellino, troppo bello. Aspetta un attimo, vi sentite sani qua, vediamo. Allora, adesso Pavel farà, diventerà brutto. Prova a farlo qua. Avete visto come riesce un bambino così bello a diventare brutto? Il principe brutto, la minore. Adesso ti canto la canzone. E siccome la sai anche tu, canta anche tu, non importa quello che canti, lo vedi? C'era una... Maestro, veloce che se non stai finendo mai. C'era una volta un principe brutto, ma così brutto che più brutto non si può. Nessuna donna voleva sposarlo, nessuno che non fosse lei. Poi era il principe, sempre più soffro, sempre più triste e disperato, ma nel suo cuore cercava di esplodere quel grande amore grigionato. Adesso abbiamo messo a questi qua che dovrebbero essere i tuoi sudditi. Quando passava tra la gente, tutti dicevano... E' che brutto! Ma che macchio questo soffrano! E mi sentiva, sentiva e soffriva, mi sentiva... E piangeva. Piangeva. Chi ha problemi, vi prego, lo capisco che sono storie angoscianti, però qua ci sono purtroppo a chiedere a tutto il mondo che i principi brutti abbiano questo triste destino. Qua ci sono anche i principi coglioni, ma quella è un'altra storia, la raccontiamo la prossima volta, qua non si dicono le parolacce e non lo scusate. Ho bisogno di una principessa, una ragazza, una bambina. Chi vuole venire? Vieni! Vieni, dai, vieni! Due principessi. Non importa, anche due. Perché facciamo un matrimonio a tre, non c'è un problema. Allora, attenzione, principi, rimani qua. Allora, c'era una volta una brutta fanciulla. Fai la faccia. Eh no, deve essere brutta. Guarda, guarda io, guarda, io sono bellissimo, come vedi, no? Allora, guarda, adesso divento brutto. Eh, prova. Ecco, c'era una volta una brutta fanciulla che aveva già una figlia. Direzione, è qui una storia, eh. Ah, povera fanciulla, sempre più triste, disperata, adesso guarda, c'è capo, scusate, eh. Quando passava la prima faccette, tutti dicevano, e lei si soffriva e piangeva. Guardate come piante, guardate. La figlia che non capisce niente. Ma quando il principe... Chi è il principe? Sei tu. Sì. Incontrò la ragazza. Incontratevi. Pensò. Credo. Eh, che bella. Che dolce creatura. Non ho mai visto una persona più, più, più amabile. Però chissà se mi vorrà. Ma anche lei pensò la stessa cosa. Oh, com'è bello. Oh. Oh, com'è gentile. Com'è bello, com'è gentile. Se solo io fossi un po' più carina, c'è pensare, potrei osare, almeno guardarlo. E infine, insieme si fece il coraggio. Si presero le mani, con naturalezza. E fu così che tutti dissero. In quadro, in quadro al pubblico, adesso li facciamo lavorare, non andiamo in televisione. Fu così che tutti dissero, quello che uno va in televisione fa la faccia da scemo. Ma guarda che belli che sono diventati. Guarda che belli che sono diventati. Questo è un miracolo piovuto dal cielo. Eh, no? Oh, cavolo. L'amore. Nessun miracolo, diciamo noi. È solo l'amore che ha trasformato. Lei è una ragazza madre, va bene. Quello che gli sciocchi chiamano bruttezza. Mentre invece è diversi. Essere diversi, e quindi ve lo molti, non è un merdone. Essere diversi, può essere bello. Ma sono felice di essere diverso. Sì. Sono forti i bambini. Viva la mamma e il baccalà! Grazie. 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 Grazie a tutti.